Ciao ragazzi, volevo dirvi che ho comprato questi semini di carote, pomodori, marmande, io non le conosco le qualità, però questo è marmande, che è quello grosso, queste sono mantese, zucchine verde milano, lattuga salad bowl, quella riccia, melanzana bellezza nera, comunque ho comprato queste per metterle poi nell'orto, prima di metterle nell'orto però vanno messe per 4-5 giorni in un bicchiere con dell'acqua, però non vanno messe così, bisogna prendere della stoffa vecchia, tagliarla a quadrati, grossi più o meno così, metterne proprio un po', un pizzichino, una mancettina ma piccola piccola, chiudere, mettere un elastichino e immergerli, qua sono tutti scombinati perché ce n'è troppi, nell'acqua così, e tenere fuori la parte sopra, tipo, qui vedete che c'è l'elasticchino, loro sono qui, qui dentro, qui, e la parte in eccesso, cioè dove ci sono i semini, va nell'acqua, e la parte in eccesso sta fuori, così loro stanno nell'acqua e assorbono l'acqua, per 4-5 giorni, poi si tolgono da qua, che poi lo faremo fra un po', si tolgono e si impiantano in un vaso, io non li metto tutti in un vaso perché ce li ho piccoli, scusate, i vasi, ce li ho piccoli, quindi non dovrò prenderne di più, tipo 3 o 4, li metto in uno, per dire i semini della melanzana, in un altro lattuga, nell'altro zucchino, pomodoro, e la carota, nell'altro, e niente, e volevo dirvi questo, e fra un po', poi, fra qualche giorno, uscirà il video che li mettiamo poi nei vasi, per fare le piantine, dopo che si mettono nei vasi, li semini, nel vaso, e li lasci per, per un po', finché fa la piantina, più o meno alta, così, 20 centimetri, e poi prendi la piantina, la sdradichi con le radici, e le metti nell'orto, è gioco che ho fatto, poi fanno le piante, vengono pomodori, oppure melanzane, lattuga, quello che hai piantato, e di lattuga ovviamente non verrà la piantina, ma verrà il ciuffo, ciuffetto di insalata, piccolino, che poi andrà messo, quando sarà più o meno così, mi ha piantato nell'orto, e viene poi grosso così, e togli le foglie, e te ne mangi, basta, vabbè, al prossimo video, ciao!